Marco Petrini, presidente della Corte d'Appello di Cadanzaro e due avvocati, uno del Foro di Cadanzaro e l'altro di Locri, sono stati arrestati alla Guardia di Finanza su disposizione della DDA di Salerno per corruzione in atti giudiziari. I destinatari dei provvedimenti sono otto, sette dei quali con custodia cautelare in carcere e uno ai domiciliari. Le indagini, avviate nel 2018 e coordinate dalla DDA di Salerno, hanno permesso di ricostruire una sistematica attività corruttiva nei confronti del magistrato, denaro contante, oggetti preziosi, altri beni e utilità, tra le quali anche prestazioni sessuali. Era quanto gli indagati nell'inchiesta della DDA di Salerno promettevano e consegnavano al magistrato, dicevamo presidente della Corte d'Appello di Cadanzaro, nonché anche presidente della Commissione Provinciale Tributaria del Capoluogo Calabrese, in cambio di un suo intervento per ottenere in processi penali civili e cause tributarie, sentenze o comunque provvedimenti favorevoli a terze persone concorrenti nel reato corruttivo. In alcuni casi, i provvedimenti favorevoli richiesti al magistrato e a quest'ultimo promessi assicurati erano diretti a vanificare, mediante assoluzione o consistente riduzione di pena, sentenze di condanna pronunciate in primo grado dai tribunali del distretto, provvedimenti di misure di prevenzione già definite in primo grado o sequestri patrimoniali in applicazione della normativa antimafia, nonché sentenze in cause civili e accertamenti tributari. Marco Petrini, dicevamo, è il magistrato della Corte d'Appello di Catanzaro, nonché il presidente della stessa commissione tributaria. Dunque, sono finiti in carcere lo stesso Petrini, insieme ad Emilio Santoro, dirigente dell'Aspe di Cosenza, Luigi Falzetta, Giuseppe Tursi Prato, ex consigliere regionale, Francesco Saraco, avvocato del distretto di Locri, Vincenzo Arcuri e Giuseppe Caligiuri. Agli arresti domiciliari, invece, sono stati disposti per Marzia D'Assone, avvocato del Foro di Catanzaro. Oltre al magistrato Petrini, secondo quanto emerso dalle indagini, coordinata di D.A. di Saderno e culminate oggi con l'ordinanza che custodia cautelare, figura centrale del sistema corruttivo era l'insospettabile medico di pensione, ex dirigente dell'azienda sanitaria di Cosenza. Il medico, secondo quanto emerso, stipendiava mensilmente il magistrato per garantirsi il suo asservimento e procacciava nuove occasioni di corruzione, proponendo a imputati in primo grado e loro parenti o a privati socconventi in cause civili decisioni favorevoli in cambio di denaro, beni e altre utilità. Le attività sono state documentate attraverso intercettazioni audio-video, hanno portato anche alla luce azione corruttiva riguardante l'ottenimento di un vitalizio da parte di un ex consigliere regionale, Giuseppe Tursi Prato, condannato nel 2004 a sei anni di reclusione e interdizione perpetua per i reati, tra i quali il 110 e il 416 bis, perciò decaduto dal beneficio, ma anche ad agevolare alcuni candidati impegnati per il superamento del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato. Le indagini hanno inoltre accertato, grazie a ricostruzioni bancarie e conversazioni intercettate, la grave situazione finanziaria del magistrato, alla base della sua costante necessità di apprivigionarsi denaro. Durante la perquisizione dell'abitazione del magistrato è stata trovata e sequestrata la somma in contante di 7.000 euro custodita all'interno di una busta. Numerose le perquisizioni condotte nei confronti di altri coindagati di terzi e di società.